Domani 5 gennaio prendono il via i saldi invernali a Pescara, proseguiranno per 60 giorni fino al 5 marzo. Nonostante la solita attesa c'è poco entusiasmo da parte dei commercianti. A registrarlo è la Confcommercio che nei giorni scorsi ha effettuato un sondaggio tra i propri associati. I commercianti sono pronti ma aleggia un certo malumore perché le vendite natalizie non sono andate bene e il trend negativo potrebbe continuare durante il periodo di saldi. Le motivazioni sono le stesse, i soliti problemi che attanagliano la città di Pescara, ai quali si aggiunge la crisi finanziaria che sta attraversando il paese e la poca disponibilità economica da parte dei consumatori. Anche quest'anno penalizzati i commercianti più corretti dalle famose vendite selvagge, ovvero vendite promozionali prima dei saldi, anche prima di Natale. Il traffico insostenibile e la scarsità di parcheggi continuano a penalizzare lo shopping in centro. La soluzione passa da una migliore organizzazione dell'area di risulta ma non ancora si intravedono segnali positivi in questa direzione. Infine Confcommercio critica l'aumento spropositato di centri commerciali e outlet, troppi che godono di troppi vantaggi, parcheggi illimitati e che applicano sconti troppo elevati. I piccoli negozi del centro non possono continuare a reggere il confronto, bisogna porre un freno.